il nostro pane quotidiano attenta al bicho vedete la mia qui eh? vai via io vieno la sera io vieno la sera che si fa? bicho e dopo? e dopo l'armetto dentro io veramente sei terribile eh sei Faustino Terribilino posto abbiamo caricato tutto si ma le casse non dici voi no? dai un bacetto ci vediamo domani va bene? va bene? e via e oggi si ciao guardate come aspetta finchè non parto lui sta lì oggi è così un po' veloce è stato un saluto un po' sono ritornato sono riposato un po' ora si riparte ancora sta qui lui non molla non parte finchè non vede che ecco che bello che bello è